Bene, bene. Detto questo, possiamo andare oltre o presentiamo di nuovo tutti? Allora, no, direi che possiamo andare oltre perché questa settimana alcuni di noi, non tutti perché è difficile riunire un folto gruppo come quello di The Gap, si è incontrato a casa di Feder a fare questa clip che andremo a vedere appunto che ci introduce al Natale. Introduciamoci allora, vediamo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti